Buongiorno signori, io sono Mr. Lule e tra pochi giorni arriveranno le ricariche RDC della mensilità di gennaio 2021, le ultime calcolate sulla base dell'ISEE 2020. Ma cosa succederà a febbraio 2021? Quali conguaglie e sorprese dobbiamo aspettarci? Beh, vi spiego tutto, sigla, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! L'INPS, lo sappiamo, il 27 ricaricherà RDC e PDC sulla base del vecchio ISEE. Infatti gli importi che riceverete saranno tipicamente uguali o molto simili a quelli percepiti nel corso del 2020. Da febbraio però le cose cambieranno. Infatti tutti, tutti i beneficiari del sussidio dovranno obbligatoriamente aggiornare il modello ISEE entro il 31 di gennaio 2021, così da continuare a percepire i pagamenti senza ritardi o sospensioni. Chi non rinnoverà l'ISEE, beh, non perderà il sussidio ma riceverà certamente febbraio in ritardo. Ma febbraio fa rima anche con conguaglio e dopo l'aggiornamento del modello ISEE potrebbero capitare tre cose. Primo, la perdita dei requisiti economici per continuare a beneficiare del sussidio. Supererete quindi i valori soglia e decadrete dal reddito di cittadinanza con il recupero anche delle mensilità in debite a meno di indicazioni diverse da parte dell'Inps. Oppure, secondo, un ricalcolo del reddito di cittadinanza che potrebbe portare sia ad un conguaglio positivo, quindi un eventuale aumento, oppure ad un conguaglio negativo con un conseguente recupero. Terzo, un ricalcolo degli importi dovuto non solo all'aggiornamento ISEE ma ad una comunicazione del modello RDCcom esteso, quello che serve per comunicare ad esempio l'inizio di un'attività lavorativa che aveste eventualmente inviato nei mesi precedenti. Detto questo, mi raccomando, aggiornate il tutto e prepariamoci ai conguagli con consapevolezza ma soprattutto con pin e speed alla mano, altrimenti sarà impossibile controllare il dettaglio degli eventuali recuperi. Detto questo, veramente, io come al solito vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live, mi raccomando, lasciate un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti e attivate la campanellina. Un saluto a tutti, alla prossima, buona serata da Mr. Lul.